Allora, facciamo così. Tino resisti un po', se vuoi aiutarmi dopo veramente mi riempi il cuore di gioia, però aspettiamo un attimo. Allora qua ci serve la statuetta a forma di ragno, va bene. Adesso abbiamo il lanciafiamme per bruciare gli alveari, il che è una buona cosa. Questo qua lo usiamo molto velocemente. Ah, eccoci qua. Ma perché non me lo prende questo che non capisco? Ma vaffanculo. E qua l'oggetto dov'è? Di fronte a me? Ma cosa vuol dire di fronte a me? È qua dietro o cazzo? No, è dall'altra parte proprio. Anche qua c'è un oggetto. Ah sì, è questo oggetto, buggato, ma va a cagare, va. Andiamo avanti. Allora, fermi tutti. Quattro. Ehi, 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 oh. E questo? Qua niente. Ah. Bah, bah, bah. Fanculo, ragni di merda. Ma ancora? Ma basta, ma dove sono? Boh. Folio chimico, folio chimico forte. Polvere da sparo. Beh, non si brucia mica questo qua, no? Ma mi sembrava di ricordare così, vabbè, come non detto. Stazione idrica qua, forse, forse l'ho dimenticato degli oggetti, ma non ricordo bene, vediamo. No, non è vero, ho preso tutto qua. Come non detto. I stimolanti, mi sa che hanno già finito il coso. Ah, ok, vabbè, non ti preoccupare, dai. Apprezzo l'onestà. No, su serio, però, a parte di scherzi, apprezzo, mi fa piacere. Qua abbiamo un bel niente. Noi siamo arrivati da là, vero, sì. Torniamo indietro, che qua c'è un alveare. Perfetto. Credo. Ehi, 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 oh! Oh! Va, muore o non muore? Ah! E qua? Non si capisce se deve esplodere sto qua o fa pinta, bocca. Perfetto. Sono mezzo morto, eh, però va bene. Ce l'ho, ce l'ho. Me l'ha regalato un mio amico e non vedo l'ora di giocarlo. Anzi, ringrazio Sirus che me l'ha regalato, nel caso sia qua a lurcare. No, scherzo lei. Spedito? No, no, ma va, perché? Guarda, sto giocando rilassato io, eh. Psico-stimolanti. Facciamo un oggetto. Munizioni 44 magnum? Ah, merda. Eeeh, non ho carburante però. E quindi come lo mettiamo? Ma perché non mi prende il carburantula in quel punto di prima? Secondo me è buggato, eh. Combustibile. Ah. Ah, ok, ok. Outlast 1 e 2, no. No. Perché non mi piacciono particolarmente i giochi dove devi solo fuggire, diciamo. Ma sì, sai perché scalla? Perché me lo ricordo un pochino, hai capito? Sarà per quello sicuramente. Esplode sta merda. Ok. E che richiamo? Così abbiamo tre in più. Combustibile, combustibile. Sì, sì, no. Ma sicuramente è bello, eh. Nulla da dire al riguardo. Ok. Qua ho preso, ragazzi. Oh, e questo qua è buggato, secondo me. Cioè, non... Non si riescono a prendere qua. Non si riesce a prendere sto carburante. E nessuna inclinazione possibile non si riesce a prendere. Ma... Vabbè. Qua abbiamo un oggetto. Ah, ecco, è vero. Combustibile solido. Che in pratica credo sia da... Grimaldello. Ce l'abbiamo noi? Sì, ce l'abbiamo volendo, vediamo. Tanto sarà uno spreco, tanto per cambiare. Soluzione medica. Vabbè, dai, neanche tanto in realtà. Eeeh. Ok. Allora. Dov'è? 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 È completo adesso, Visage. Completissimo. Ascoltatino, ma tu che sei un ragazzo che gioca spesso su computer, ci sei nel gruppo offerte? Nel canale offerte? Moneta antica. No. Merda. E nel server di Discord, invece, che magari lo usi. Statuetta di pietra. Ehi, dacci un taglio, Mia. Voglio delle risposte. Lo so. Lo so, è vero. Vorrei dirti tutto quanto, ma... Ma io ricordo solo qualche frammento, il resto è spareto. Papà, io sto... Aglia. Ti spiace se prendo la mamma in prestito per un po'? Su, fa qualcosa. Non stare l'impalato. Ethan, aiuto! Cazzo, Mia. Merda, sì. Eh, guardatino. Scrivi punto esclamativo Discord. E punto esclamativo offerte. Vedi se ti può tornare utile qualcosa. A parte il fatto che nel... Nei tutti i link utili c'è tutto quello che ti dicevo. Se clicchi lì, vedi tutto. Allora, statua di pietra. Non ci sta, porca miseria. Puprazza. Molita antica, non ci sta, niente. Dobbiamo tornare per forza. C'è una statua da rompere qua, eh. Resta fuori di qui! Ah, merda. Ma io c'ero già stato lì. Boh, da che parte dobbiamo andare? Eh, che cazzo. Ah, vabbè. Ah, vabbè, vabbè, ok. Prego, prego. Esplode questo e fa finta. E' esploso. Non mi pare. Ah, ecco, adesso bene, bene. Eh, lo so, Paolo, che devo mettere il ragno. Volevo andare... A liberare l'inventario. Va bene, cosa, merdaccia? Non si capisce, muore, boh. Non credo. Bene, ho sprecato tutto. Perfetto. Eh, vabbè, oh. Mi sa che dovevamo scappare della tipa, eh. Ho questo presentimento. Cazzo, devo andare... Qua. Devo andare. Quindi dentro, destra, dentro... Eh, mamma mia. Che roba incredibile. Ah, anche di qua, volendo. Vabbè, vediamo un attimo. L'MSX? Non so cosa sia, sai. Non lo conosco. Sono troppo giovane. Più o meno. Lei è di sopra, non salire. Andiamo a mettere giù un po' di cose. Mamma mia. Tutto il carburante ho scazzato. Ah, il comodo, ah, ok, ho capito. Allora, dai. Vagamente, eh. Cosa mettiamo giù? La magnum. Combustibile solido. Qua abbiamo del reagente, no. Abbiamo lasciato indietro, quindi, la moneta antica. Questo. Pistola rotta. Ma può essere riparata con un kit riparazioni. Via. Eh, lancia fiamme. Un botto di giochi. Immagino, sì, immagino. Eh, adesso non è proprio più così, diciamo. Allora, abbiamo detto che dobbiamo andare in cantina a prendere gli oggetti. Che palle. Sarà un parto arrivare fin là con sta maniaca che ci corre dietro. Però. Dobbiamo provarci. Ma li ho bruciati prima, che due coglioni. La cantina è di qua, eh. Cosa abbiamo qua? Ciao, scal, buonanotte. Moneta antica. Cosa facciamo qua? Statuetta di pietra. Perfetto. Bene, possiamo andare a fare l'enigma, allora. Eppure qua c'è una statua, eh, cazzo. Ah, eccola qua. Ciao, zombie, benvenuto. Eppure qua. Dove cavolo è? Nella sala da pranzo, forse. Vediamo. Ups. No, mi sa che è qui dietro, invece. Cosa è da prendere qua? No. Allora, giochi horror? Allora, mi prendi un po' la sprovvista, eh. Sta bestia, maledetta. Dove cazzo è? L'enigma. Vigliacco mangia merda, vieni fuori! Vigliacco mangia merda. Beh, Dead Space sicuramente, sì. Dead Space sì, ok. Eh, Bioshock, vabbè, però non è tanto horror. Singularity è molto carino, se non l'hai mai giocato. Andiamo alla stanza qua, dovrebbe essere questa, credo. Vediamo un attimo. Oh, finalmente. Ragno, dove sei? Eccolo qua. No, è sbagliato così. Benissimo. Dove ci porta adesso questa cosa? E poi, fammi fare a mente locale, eh. Beh, Penumbra, per esempio. E poi, come saga, gli Amnesia. Mamma mia. Cazzo, cazzo, cazzo! Cristo salto! Che schifo. Sento di aver fatto delle cazzate enormi, comunque, io, eh. Erba. Penumbra? Eh, no, no, no. Cerca, cerca, cerca. È una serie famosissima. Di horror, eh. Qua non abbiamo nulla. Qua è dove Mia era scappata l'altra volta. Qua credo sia chiuso, vero? Fluido chimico, va bene. Ok. Sì, sì, sono tutti su Steam, eh. Tutti su Steam, sì, sì. Sì, guarda, Alan Wake è bellissimo, Alan Wake. Alan Wake è bellissimo, cavolo. La leva? Chi è che ce l'ha, Paolo, la leva? Non mi ricordo. Ma l'ha presa poi la moneta antica prima, sì? Sì, con stimolanti. Ok. Ok. Manovella. Guarda, Tino, vieni sul gruppo Discord che ti consiglio appena posso. Perché devo guardare... Sai perché? Non è che non mi ricordo i giochi, è che devo guardare la mia libreria per fare la mente locale. Perché veramente... Sì, non mi ricordo effettivamente. Ok. Manovella. Vediamo. E in pratica cosa ho fatto? Ho aperto una scorciatoia qua. Ah, ok. L'abbiamo usata qua, però va usata anche dall'altra parte. Cazzo è stato. Stazione idrica? No. Dov'è quella parte là? Forse è qua? No. Forse... Ah, qua è. Ecco, ecco, ecco. Dietro di me. Vediamo un attimo. Eppure io credo di aver presso mille e mille oggetti, però. Merda. Che palle. Ma andate a cagare. C'è anche su PC, sì. Però mi sa che Squall non ha mica il PC. O almeno non mi ricordo. Dice così. Vediamo se la rompicoglione è andata via da là. Ma... Cazzo. Schifo. Ah, beh. Con quella lì poi che mi corre dietro. Io ho una 2070 Super al momento. Anche perché con sta penure qua di cose... Cazzo. Meglio curarsi, va. Sì, ma Ethan è veloce, però, eh. E che cazzo. Bene. Soluzione medica. Non è abbastanza slot. Manovella. Vabbè, ci torneremo. Dai, io ho capito. Combustibile. Moneta antica. Eh, sì, vabbè, perché è uscito un po' dopo, eh. Che cazzo buttiamo qua? Che cazzo buttiamo qua? Questo qua con cosa lo combiniamo? Con il combustibile. Con il combustibile. Con il combustibile e questo con... Con niente. Perché altrimenti... No, in realtà... Così, dai. Perfetto. Combustibile e chiave corvo. E vai. E fra l'altro, io posso ricaricare qua. Eh, la PS5 è introvabile, sì. La 1060, 6... 1060 è buona. È una buona scheda grafica. Dopo dipende ovviamente da uno cosa deve farci, insomma. Forse per me prenderei le 3090, eh. Però... Però non è fattibile, diciamo. Allora, chiave del corvo... Qua. Vero, se uno potesse... Se uno deve sognare, deve sognare in grande, dico io. Sì, sì, sì. Soldi buttati, sì. Come qualità-prezzo, indubbiamente. Indubbiamente. La 3080 è un bel prodotto. Scriptato. Non credo qua, sai. Ho capito. Ethan, dai su. Ho forse ragione che non c'erano le munizioni qua. Vediamo un attimo. Potrebbe anche essere così effettivamente, eh. No. Consuma le munizioni, invece. Oh no, Dio! Sa cosa tu e Zoe stavate compabulando? Non mi fai bene. Non mi fai bene. Va. Credevi di poter fare i tuoi porci comodi Con la mia famiglia È mia È mia Non c'era mica una scala qua Via 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 Tutto è lancia fiamme Ho sprecato Bene Ma che cazzo Allora Zoi Hai provato di nuovo a intrufolarti piena di sopra eh Credevi che non me ne sarei accorta Anche dopo quello che è successo a Evelyn Continui a blatterare di quella strana medicina E cosa credi di fargo nel mio altare Tieni la larga quelle tue dita appiccicose Nessuna tocca il mio sacro altare Pensi che io e tuo padre siamo degli idioti Patetica ragazzina viziata Vorrei che tu non fossi mai nata Imperdonabile Patetica con la tua area di superiorità Che credi di poter abbandonare la nostra casa Dopo tutto quello che abbiamo fatto per te Patetica 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 Se mai ti becco toccare il mio altare Ti taglio quelle tettine E le servo come brasato Speriamo siano grandi Altrimenti non si mangia nulla E allora Apriamo la cosa con la chiave di corvo Che aprirà un sacco di porte a quanto pare Allora Qui cosa abbiamo Target acquired Bello Interessante Allora note riguardanti il siero della serie Ingredienti indicati necessari a sintetizzare il siero Serie di nervo encefalico Serie di nervo periferico Forse ci siamo Che cazzo è sta roba qua Che schifo Avanti Allora Andiamo a controllare il piano di sopra Ok Prova lì Se c'è Vieni alla roulotte Ce l'ho Sono d'accordo con Zoe C'è qualcosa di strano in quella piccola Così come in quella donna che era con lei Vedo cose Sento rumori La nausea non passa Sono andata dal dottore E mi hanno fatto una radiografia Cosa mi sta succedendo La piccola mi ha offerto un dono Ho conservato il dono nella stanza segreta in fondo al piano di sopra Dove nessuno lo troverà mai Quel braccio simboleggia la fiducia della piccola Quel braccio ci incondurrà alla felicità E se qualcuno proverà a corrompere questa felicità Non lo lascerò vivere Come mai il secondo non ti piace Infatti Ho visto che quella serie lì purtroppo ha avuto una battuta d'arresto Appunto col secondo capitolo Qua niente Non serve sto qua Ricarchiamo così liberiamo un po' di spazio Dante si inferna incredibile Non so perché Non abbiano mai fatto un secondo capitolo cazzo Anche perché penso abbia venduto bene Creato da quelli di Dead Space Visceral Games cacchio Allora Qua serve chiaramente una lanterna Moneta antica Yep Please Eeeh Cosa mettiamo qua? Niente da fare così non va Ai 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 Serve una lanterna qua ragazzi Vediamo Però non mi sembra di aver visto lanterne qua O si Qua non c'è niente Questo non mi interessa Qua c'è una bambola ma Serve un cazzo Eeeh Beatrice Beatrice Era bella si No qua mi sa che manca un pezzo Sapete Cosa abbiamo qua? Moneta antica Chiave Corvo Ah Porcaccia Ho capito Paolo Hai ragione Ciao San Ciao Hai ragione Paolo Dobbiamo prendere La lanterna Dal cadavere della tipa Che poi in realtà non è così Merda Che razza di Pazzesco Mi era dimenticato sta cosa Quanta vita ho? Uno grande e uno piccolo Prepariamoci eh Perché qua è un brutto presentimento Ok Serra Allora facciamo così Vediamo se riesco a Sbloccare questa parte Perfetto Andiamo Alla roulotte Mettiamo giù un po' di oggetti stupidi Anzi in realtà Potremmo anche tornare in casa Con la chiave Corvo Possiamo anche fare quello Volendo Moneta antica Prendi tutte E ci prendiamo la pistola Che dite? Ho fatto bene Boh Magnum Ah Eh vabbè ma è troppo buona questa 5 e 3 Eh non ho più niente però Quello è il problema Quindi adesso abbiamo la magnum volendo È molto potente Ma anche il rinculo è elevato Vabbè non è un problema Il problema sono i colpi mancanti Che è diverso L'occupaggio agli oggetti Nella prima rega dell'inventario Ah già Conferma Muovi Eh muovi Ah ok Sì ho capito Questo qua è un siluro Però non abbiamo colpi Cosa serve un siluro senza colpi? Ho sbagliato Era meglio prendere La ricarica Porcaccia Da quant'è che sono in live? Due ore Chiave corvo Allora Facciamo così Mettiamo giù la magnum Ok Prendiamo il coltellino Stupido Ma cosa abbiamo? I psico stimolanti La manovella Che Per il momento Sembrerebbe inutile Salviamo velocemente E andiamo ad aprire Le altre stanze Con la chiave corvo Che sono curioso Vediamo Allora Fino a luna Questa qua Che simbolo è Secondo voi? È un corvo? Ma Sì Penso di sì Proviamo ad andare Però Per andare lì Di qua Vediamo 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 Ragazzi Vediamo Sì Spazio ne ho Nell'inventario Insomma Salottino E fra l'altro Ehi 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 Qua ci dovrebbe essere un tesoro Credo No? Ma non era questo qua Il tesoro indicato Porca caccia La puttanaccia Sekiro Ma non ce l'ho installato Sekiro Cosa dici? Eh Non ce l'ho neanche io Sekiro dietro Ho cambiato casa eh Non ho mica tutti i giochi dietro io Eh Cos'è che ho? Poveri da sparo Lancia granate Nio 2 Nio 2 Eh Nio 2 Sì che ce l'ho Però non è installato E poi Cartucce di cosa? Cartucce fucile Combustibile solido Vediamo un attimo Pulvere da sparo Cartucce incendiare Cartucce per fucile Merda Ah ok Ho sbagliato Allora Ah è vero È vero Avete ragione Steroidi Ah E adesso Che palle Non ho mai spazio Mai spazio c'è Che due palle Allora Qua serve un grimaldello Scorte Eh niente Dai Andiamo alla lavanderia Mettiamo giù un po' di cose Poi torniamo nelle salottine Vabbè Eh non lo so San Vuoi vedere un gioco di carte? Secondo me Secondo me vuoi vedere un gioco di carte? Tu hai la faccia di uno Che vuole vedere un gioco di carte No ma dai Quel bonus lì Ti entro per un'altra live Ok promesso Sekiro lo installerò Va bene Però Come faccio ad inserire Sekiro Senza aver finito Bloodborne Eh Fra l'altro In Bloodborne Io sono arrivato in un punto interessante Che è un punto Pieno di ragnoni Qua No qua è sbagliato Qua E là Mettiamo giù un po' di cosette Non mi ricordo più se possiamo ampliare ulteriormente lo zaino Io spererei di sì Però non sono benemente convinto Allora Lancia granate Per il momento Via E poi Zombie Ascolta Prova a vedere se Hai mai giocato Singularity Cerca Singularity Fidati di me C'è anche nel canale YouTube Conosci il mio canale YouTube? Vai a conoscere il canale YouTube Singularity È stupendo Polvere da sparo Via Psicostimolanti Via Chiave Corvo Ok Allora abbiamo fatto 4 spazi qua Andiamo avanti Singularity È un gioco che ti piacerà Perché è un horror sci-fi Tipo Bioshock No ma infatti Sekiro Non fa per me Secondo me Stanza di controllo Ok Di qua abbiamo detto Salottino Dove sei? Qua ci manca il grimaldello Porca miseria Uffa Steroidi E combustibile Cosa fanno gli steroidi Punto di domanda Aumenta la salute massima L'effetto dura a tempo indeterminato Bomba Va bene Va bene Va bene San Promesso Hai visto Singularity Zombie Eh bene Zombie tu su che console giochi? Su dove giochi Insomma Fiditi che Singularity È molto bello Non sto scherzando Io di giochi Ho giocato Una marea Su PC i giochi Bene E Conosci qualche sito di chiavi Dove risparmiare? Se no ti consiglio volentieri Che sono un esperto risparmiatore PS4 360 Bene Bene Instant gaming Ok Ma non c'è solo quello Cosa possiamo fare qua? Qua è chiuso È chiuso Salviamo Dove cazzo? Eccolo qua Allora abbiamo un'altra stanza Volendo Vediamo un attimo Abbiamo un'altra stanza Con la chiave del corvo Credo Vediamo un attimo Se non ricordo male Allora Serpente Qua niente Qua niente Sopra Area di trattamento Serpente Ancora Serpente Serpente No Col corvo Non vedo nient'altro Bioshock 1 è bellissimo Ma quando qua Un oggetto utile Ha esaurito la sua funzione Ce lo dicono Da buttarlo via Per buttarlo via Allora Trova il braccio Nella vecchia casa 2F Trova gli ingredienti Del siero Sconfiggi Margherita E prendi la lanterna Margherita E prendi la lanterna Il braccio È il secondo piano Secondo loro Vabbè Andiamo fuori Dai Che non si va di qua Vediamo Eh Bioshock Molto bello Molto bello Indubbiamente No di qua No ho sbagliato Qua ho già raccattato Tutto Allora Quella programmata Sì è alle 10 Le altre Penso anche Alla mattina Penso anche Al pomeriggio No è sbagliato Qua Qua volevo andare io Qua serve una chiave Ho sbagliato È dall'altra parte Alla mattina Verso le 10 Credo Andiamo avanti Dai C'è qualcosa Che posso mettere giù La No Allora Qua siamo in un bel posto Del cacchio Chiaramente Lì siamo arrivati Da qua Sta laggando un po' Si è bloccato Completamente Si è bloccato Tutto Ah Vabbè Foto tesoro Ok Eh San No Sekiro No Devo Devo programmarmi Per giocarlo Così improvvisato Combustibile solido Eh Non saprei Dirti Qual è Perché Magari Dipende Se una Regione Europa E l'altra Regione Mondiale Boh È un posto Un po' Di Merda Dopo Ciao San Buonanotte Cartucce Fucile Lasciamo stare Possiamo andare anche sopra Qua Non c'è niente Sicostimolanti È chiuso Dall'altro lato Fluido chimico Forte Non mi sta Allora Ricordiamoci Un water Con delle sigarette La buttiamo Ricordiamoci Il water Con le sigarette Beh E di qua Cosa c'è Di bello Ma come Ma è una scorciatoia Del cazzo Questo qua Ma dai Andiamo su Poi andiamo In quella grata Lì Sì Ma porca Di quella Troia Attacca Porca miseria Che spauracchio Cazzo Che paura Cazzo Raffanculo Per renderli Reutilizzabili Se barandone Fluido chimico Ah Eh Mi ricordo Mi ricordo Sì Buona Che schifo Che fa Cazzo Che schifo Che fa Mamma mia Useremo il fucile D'ora in poi D'altronde E il lanciafiamme Ha dato Ma che Cazzo E di qua Dove si va Vediamo Ah Uno struzioni Ti impedisci Di andare avanti Ok Come non detto Vai 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 A colpo sicuro Fidati Poi mi direi Se è bello Se ti piace Ma io mi sto mica Nascondendo Sto solo girovagando Che diverso Ce ne caro Resta con noi Combustibile Non ci sono abbastanza slot Ma che di palle No Il cartuccio incendiario Mi ha creato Ma dai Eeeh Guarda zombie Uniscite a discord Scrivi punto esclamativo discord Che dopo ti mando un messaggio Se hai piacere Fidati di me Punto esclamativo discord Dai Merda Vediamo come riesci a cavartela No Ethan spara No Spara Ethan Ok Perfetto Prima o poi morirà Eh E vabbè Pure Che infame E muori Merda Eh Non mira più giù di così Ma dai Che Oh No comment Dov'è la bestia di satana Qua sotto mi pare Cazzarola Dove è andato Dai tirami su Che ti sparo Perfetto Eh Non vuole morire Non provarci Di massacerto Ricarica 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 Via 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 Alla prossima Dov'è andata Brutta infame Era nuda Ma Sicuramente non è un bello spettacolo Che cazzo sta facendo Questo abominio Via insetti E non muore Dov'è cazzo è? Dove sono? Ah eccoli qua perfetto Proprio questi cavoli voglio Oh non muore No non ditemi che mi sono perse È morta Lanterna Oh finalmente cazzo Munizione e pistole No non muore sono con il fuoco No Ce l'abbiamo fatta È stata difficile però ce l'abbiamo fatta Bella però come boss fight Questa qua Mi è piaciuta davvero molto Allora cosa abbiamo qua Vediamo un attimo Bella 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 Qua mi sa che abbiamo preso tutto vero si Dentro la vasca Non c'è niente Nei cassetti qua Niente Qua dentro niente Ok scendiamo dai Qui c'è la serra Fluido chimico Cartucce fucile Ai 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 E se facciamo così? No Ho sbagliato Ho sbagliato E se facciamo così? Così? Vabbè Ho sprecato mi sa qualcosa lì Quello per separare le cose E va bene Non importa Compostibile solido Fluido chimico Ah già 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 È vero è vero è vero Il bagno Stiamo cercando Il bagno Paolo hai ragione Dove può essere il bagno Sarà in bagno Il fluido là Non mi sta purtroppo Peccato Ce ne sono due Fra l'altro Di fluidi Qua niente Qua niente Lei è sbloccata Ebbene Vediamo se c'è il bagno Qua Serra Vecchia casa Ma l'avete visto voi il bagno qua? Qua c'è un water Ma non è quello che vogliamo Ah qua si è sbloccata Sta zona Combustibile Non so se sia qua Il bagno Sapete Non l'ho mica visto Un water Con delle sigarette Vicino Spazio Non ne abbiamo Qua Ma niente Eh qua Torneremo a prendere Delle cose più avanti Boh Qua? No Water Dappertutto Ma il water Che cerco io Però non c'è mica Ah beh Allora niente Dai Mi sa chi è Nella casa normale Allora Andiamo Ce ne Di qua Cazzo è stato Qua dentro No eh Tutti sti rumori Molesti Quindi Ora che abbiamo La lanterna Possiamo andare Possiamo andare là Cosa facciamo Vediamo un attimo Mettiamo via Anzi Facciamo così Ok Scompongo Ricompongo Munizione pistola Lanterna Cartuccia fucile Munizione pistola Ok Bene Noi qua Salviamo E ci fermiamo Con Resident Evil Eh Per oggi Ci fermiamo Con Resident Evil E ci fermiamo